Sopra Monte Pellegrino, che è il monte di Palermo, vive un orso, probabilmente marsicano, però spostato per motivi... E questo orso cammina, a un certo punto c'è un uomo, un cacciatore, che vuole ammazzare questo orso. Allora si sveglia la mattina, sempre domenica mattina perché lui lavora, di mattina presto e va, bardato tutto da cacciatore, a tentare di ammazzare questo orso. Allora arriva, pronto, imbraccia il fucile, vede l'orso, mira, spara, ma si sente sulla spalla, si volta e vede l'orso, che gli fa? Soca! Soca! Così, lui deve fare contento l'orso. Va bene. Allora torna a casa, anche un po' traumatizzato, dice, come è andata la caccia? Ma, insomma, passa una settimana e lui ormai affissa l'idea che deve ammazzare questo orso. Allora si barda, prende un fucile anche un po' più grosso, spende anche in veste, spende di soldi, e va davanti, finalmente, è così, la mattina più presto, vede l'orso che cammina, insomma, nella brughiera di Monte Pellegrino, mira, finalmente ho questo bello make-up, vabbè, si volta e ancora l'orso, soca, come soca, Teresa soca, e deve rifare contento l'orso. Ormai va a casa, anche non parla più con i parenti, traumatizzato, si fa prestare un bazooka da un cugino generale, e niente, arriva finalmente domenica mattina davanti alla tana dell'orso, la tana, a Monte Pellegrino, la tana vede proprio la sagoma dell'orso, dietro un piccolo cespuglio, vede l'orso, imbraccia il bazooka, buca nella montagna, ma immancabilmente si volta e lo si fa. Tu mi sai che qua non ci vieni per carciare, eh?